non ho veramente parole tutto lo schifo che ho visto nel live lasciate stare lasciate stare lasciate stare speriamo che muore anche lui sì che schifo che schifo grazie per i bit che succede che mentre gente che faceva che volevo vuole fare solo views su una persona che che defunta ok portate un po di rispetto lasciatelo in pace ok lasciatelo in pace gente che vuole fare views questo è quell'altro basta lasciatelo in pace non c'è più basta basta in una chat di uno stream tutti quanti ad augurarmi e speriamo che ci succeda pure a quell'altro questo è quell'altro ma che c'entra che siamo a scherzare ma ti scherzo sulla vita degli altri ma fatemi capì tu puoi scherzare sulla vita degli altri se così ragioni non lo so non lo so se mi sembra normale maestro sono tutti leoni da tastiera andiamo avanti con golardia comunque mi mangio un kebab alla faccia sua grazie allora sto dicendo a me mi dispiace tantissimo che youtube non c'è più alla fine è una brava persona pure lui basta questo posso dire mi dispiace a me anche a me mi dispiace fino lo seguivo anch'io lo seguivo vabbè basta vedi nel parchetto spaccio cocaina mannaccia cartarella è una bravissima persona molto intelligente voglio tutti che le persone che lo insultano insultavano questo è quell'altro per la coppia degli haters ricordate